ovvero Sinfomeniac e tutti gli altri le dissero guarda non ci puoi andare con la tua amica in bagno ci si va una alla volta perché hanno avuto brutte esperienze di gente che andava in bagno e faceva roba ok e quindi li fanno andare una alla volta questa ragazza per protesta che non poteva andare in bagno con la sua amica gli ha pisciato davanti proprio davanti l'uscio ora non so se fosse Pisana o del Trentino Alto Adige fatto sta che ha fatto questa roba qua oppure c'è un tizio che ha ordinato uno sgabeo Sinfomeniac si gira per te e il prosciutto si rigira non c'era più e fa ma dov'è no tranquillo guarda è qui sotto qui sotto dove Sinfomeniac si affaccia dal bancone c'era lui svenuto nel proprio vomito c'era un tizio svenuto nel proprio vomito che aveva ordinato uno sgabeo e poi si era accasciato al suolo quindi diciamo che Kerz è stato anche light comunque basta andare a Mr. Sgabeo e farvi raccontare questi aneddoti ce ne sono milioni è il paninario più famoso di Pisa e va bene però è anche il punto di raccolta di tutti i ragazzi che hanno fatto serate che quindi sono completamente fuori e quando sei completamente fuori e vai a mangiare il panino adesso ce ne sono di tutti i colori tant'è che il sabato sera Mr. Sgabeo ha un buttafuori